E' stata una settimana di incontri e dialoghi per il DS della Scandone Avellino Nicola Alberani in America per seguire e visionare i prospetti impegnati nelle Summer League di NBA. In attesa di conoscere sviluppi circa dei riconfermi, il dirigente Erpino ha messo gli occhi definendo virtualmente l'accordo per l'ala canadese cup pass a porto inglese Thomas Scrubb, uscito dalla Carleton University, il mancino Scrubb ha debuttato in Europa due stagioni fa in Finlandia con il Kataya Basket. Lo scorso anno invece il trasferimento in Germania con il Gieben dove però Scrubb è stato limitato da un infortunio. Proprio le condizioni fisiche saranno monitorate dallo staff della Scandone per il nero su bianco. Ma tenere banco in questi giorni e soprattutto il capitolo riconferme. Stranamente finora la Scandone non ha annunciato nessun rinnovo, neppure quello di Andrea Azzerini che appare praticamente certo. A meno di colpi di scena anche Lunen dovrebbe restare, ma il mercato della Scandone ha finora già riservato delle sorprese. Con la posizione di Ragland che resta a stand-by, il passare dei giorni potrebbe far riaprire un'altra pista, ovvero quella della riconferma di Kirillofesenko. Mavellino ora dovrà innanzitutto definire il mercato degli italiani che non vedrà più in bianco verde Severini. Futuro lontano dagli erpeni anche per il capitano Marques Grena richiesto da Capodorlando. Insomma intrecci di mercato tutti da risolvere. Di sicuro la prossima settimana sono attese novità con la Scandone che in martedì in Svizzera conoscerà il futuro in Champions League con il sorteggio dei gironi.